Oggi registriamo un decesso, quindi il numero rispetto ai numeri classici è di molto inferiore. Il numero dei contagi è di pari ad 80, di questi 37 sono nelle RSA. Degli 80 78 fatti col tampone e 2 senza tampone. Il numero di tamponi eseguiti è pari a 1467, quindi avuto il materiale subito siamo stati in grado di fare numeri importanti perché questo del numero dei tamponi sul quale tanto ci tiene la popolazione per avere anche un giusto controllo è un numero importante per il Trentino e riusciamo a farlo grazie alle nostre strutture nel momento in cui abbiamo le materie per farlo. Ora le abbiamo e quindi questo numero è stato garantito. Se guardiamo il numero dei tamponi positivi rispetto al numero dei tamponi eseguiti che dobbiamo guardare il dato di 78 perché altrimenti qualcuno ci dice che abbiamo sbagliato i conti non il dato di 80 perché 78 sono i tamponi su 80 positivi è pari al 5.3%. Un dato maggiore rispetto a ieri se non ricordo male ma comunque un dato che ci rassicura sulla stabilizzazione del contagio. Le terapie intensive sono 29. Ecco questo è il minimo che stiamo toccando in questi giorni. Ci ricordiamo il picco dell'82-85 quando eravamo molto preoccupati quindi 29. Ci sta a dire che la situazione si sta normalizzando. È sempre grave però rispetto ai numeri delle settimane precedenti questo è un dato che ci dà fiducia per il futuro. Oggi è stata una giornata con diversi incontri. Abbiamo incontrato stamattina sul testo del disegno di legge che sarà in approvazione nei prossimi giorni tutto il gruppo delle minoranze nel pomeriggio abbiamo incontrato i sindacati e poi anche gli imprenditori confindustria. Il tema del disegno di legge è stato al centro di questi confronti. Ieri abbiamo presentato a grandi linee il testo del disegno di legge quindi si parla di contributi a fondo perduto. Ci saranno scaglioni di reddito diversi, ci saranno contributi a fondo perduto diversi rispetto allo scaglione di reddito. Si tratta di qualche migliaia di euro. Non siamo ancora in grado di dare numeri precisi. So che c'è tanto interesse su questo però i numeri precisi li vogliamo dare quando verrà definito il testo del disegno di legge. Si parla di interventi su contributi per gli affitti per chi ovviamente non è stato in grado di pagare l'affitto oppure in alternativa si parla di credito d'imposta per i proprietari dell'immobile che lo danno in affitto. Questo poi ovviamente valuteranno i diretti interessati. Si parla di semplificazione, di snellimento della parte burocratica. Questo sarà un tema centrale nelle prossime settimane se vogliamo ripartire. Ne abbiamo parlato anche con gli imprenditori. Qui il tema della sburocratizzazione e della velocizzazione del sistema decisionale all'interno della pubblica amministrazione sarà centrale. Con le minoranze noi abbiamo dato la disponibilità ad un percorso ordinario all'interno delle commissioni e del Consiglio provinciale dove le proposte che provengono dalle minoranze saranno valutate con una volontà di collaborazione al netto ovviamente di impegni finanziari e di questioni formali. Il disegno di legge, stiamo arrivando a definire la cifra, sarà fra i 130 e i 170 milioni. Questo è l'ammontare complessivo delle risorse che mettiamo all'interno di questo disegno di legge. Stiamo valutando sulla base di quello, e questo è quello che abbiamo detto anche oggi alle minoranze, sulla base di cosa ci verrà riconosciuto dallo Stato, l'accordo, la richiesta che abbiamo fatto al Ministro Boccia sulla sospensione del patto di Milano e del patto di garanzia. Vediamo quali saranno, quanto verrà concesso, che poi non viene concesso, che sono risorse nostre, questo da autonomisti lo dobbiamo dire chiaramente, però vediamo come risponderà il Governo alle nostre richieste. E poi c'è il tema del debito. Noi crediamo che un po' di coraggio, e questo ci è stato chiesto anche dalla parte imprenditoriale, sul tema del debito serva, e noi ce lo vogliamo mettere. Vediamo come va la trattativa con lo Stato. Allo Stato abbiamo chiesto anche di modificare la legge nazionale, che in qualche modo ci impone di fare poco debito perché ne abbiamo fatto poco prima. Ecco, questo è la razio di questa legge. Allora, se il Governo cambierà anche questa legge, avremo maggiori possibilità di manovra e quindi la possibilità di ricorrere ad una quota maggiore di debito. Ma se ciò non fosse, dobbiamo avere il coraggio di provare a farne un po' di più. Questo sì, però lo vogliamo fare con raziocinio. Capiamo dove va la trattativa sulle risorse che già ci sono e che sono nostre, e che noi abbiamo richiesto lo Stato di sospendere. E poi vedremo il da farsi per non fra sei mesi, ma nel giro di qualche settimana, al netto che il disegno di leggi da 130-170 milioni parte e noi auspichiamo di approvarlo nel più breve termine di tempo possibile per dare le risposte a quelle categorie produttive che non hanno lavorato in queste settimane e che giustamente chiedono un intervento da parte del sistema pubblico. Oggi c'è stato anche un'importante riunione con tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome. Il tema principale è la fase 2, di questo abbiamo discusso anche negli altri incontri che abbiamo fatto anche con i sindacati, abbiamo fatto un incontro anche con loro. Nel pomeriggio ovviamente la richiesta che viene da più parti, anche da noi, noi ci siamo già mossi sul tema dei cantieri all'aperto, ci siamo mossi in autonomia sul tema dei cantieri all'aperto, è che il governo nel più breve termine di tempo possibile, secondo noi già il 27 perché il Trentino sarebbe pronto, gli imprenditori trentini vogliono cominciare a lavorare perché altrimenti il rischio è la perdita di quote di mercato, quindi il 27 potrebbero essere, secondo noi, il tema appunto dei cantieri all'aperto, il tema delle filiere, il tema di chi ha concorrenza internazionale e quindi deve restare sul meccanico. Nella stragrande maggioranza dei casi si parla del manifatturiero e poi sul quattro ragionare su tutti gli altri, quindi tutte le altre parti, anche la parte dei ristoratori, la parte dei parrucchieri, degli estetisti che anche questi chiedono le giuste risposte. Ecco, la richiesta che è stata fatta dal governo è questa, dacci una roadmap chiara con le garanzie sanitarie date dai comitati nazionali che danno queste garanzie sanitarie con date sicure che riguardano anche l'utilizzo dei dispositivi che devono essere fatti all'interno dei luoghi di lavoro, uno studio sui trasporti, i trasporti sarà un tema centrale anche nella ripartenza, così come lo saranno sicuramente anche le scuole. Quindi la richiesta è stata quella di avere date sicure e una roadmap chiara. Il Trentino, a nostro modo di vedere, è pronto per ripartire. Il numero dei controlli eseguiti ieri è stato pari a 3.148 persone, di queste 49 sanzionate e 1.700 esercizi commerciali. C'è un dibattito in corso anche sul tema del disegno di legge che avevamo fatto per i finanziamenti collegati al mondo bancario, c'è una legge nazionale, il cosiddetto decreto liquidità, che sta venendo avanti. L'auspicio è che quando il decreto liquidità si sarà interfacciato con la nostra iniziativa sul fronte della liquidità, tutte le pratiche amministrative che le banche stanno portando avanti si possano velocizzare. Crediamo che questo serva al nostro sistema produttivo. Grazie Presidente, stanno arrivando nel frattempo delle domande, gliele porrò alla fine perché ora vorrei coinvolgere, come ho annunciato all'inizio, la Presidente di UPIPA, Francesca Parolari. Buonasera. Buonasera. Buonasera Presidente. Sappiamo che sono giornate davvero molto difficili, molto impegnative per affrontare l'emergenza, ma anche per una serie di problematiche che girano attorno all'emergenza, alla gestione dell'emergenza. Che messaggio si sente di dare, anzitutto? Sono ovviamente momenti molto difficili che stiamo vivendo ormai da quasi due mesi. Mi preme in particolare perché è nell'occhio del ciclone un fiore all'occhiello del Trentino. Le nostre RSA, oltre 40 strutture, diffuse su tutto il territorio, strutture di eccellenza. Possiamo dire che a livello nazionale, il livello medio delle RSA trentine è il livello più alto, vissute da una comunità che quotidianamente porta, e uso il presente, non voglio usare il passato, porta all'interno della propria RSA la vita di operatori, la vita di animatori, la vita di volontari, la vita di associazioni. Quindi fa particolarmente male vedere in questo momento il nostro sistema messo così in ginocchio. Però, insomma, siamo consapevoli che siamo stati colpiti da una pandemia di livello mondiale che nessuno ha saputo gestire in maniera adeguata e che le RSA si sono trovate ad affrontare con gli strumenti che potevano avere. Quindi io mi sento di dire che abbiamo fatto veramente tutto il possibile, che stiamo facendo tutto il possibile all'interno delle strutture, in questo momento per contenere la diffusione del contagio, ma poi anche per guardare al dopo, per guardare al momento in cui dovremo riaprire le famiglie con cui abbiamo stretto un patto, una collaborazione. Abbiamo in cura le persone, i loro cari, e quindi noi vogliamo riaprire nel momento in cui però sarà assolutamente sicuro poterlo fare e vorremmo tornare presto ad accogliere nuovi ospiti perché sappiamo che ci sono famiglie che hanno bisogno. Ecco, noi stiamo lavorando per questo, pur col grande dispiacere, ripeto, di trovarci in questa situazione in maniera del tutto inconsapevole. Ecco, passati i primi drammatici momenti, quelli più difficili, anche quelli che impegnavano più sotto l'aspetto organizzativo, adesso com'è la situazione sia nel confronto dei parenti, degli ospiti, immagino che ci sia anche una grande necessità di comunicare con loro, e dall'altra parte con chi lavora strenuamente all'interno delle RSA. Allora, il rapporto con i familiari è stato mantenuto e di questo ringrazio anche gli operatori che lavorano all'interno delle nostre strutture perché siamo riusciti, anche rivedendo ovviamente i modelli di comunicazione, comunque ad intrattenere rapporti, utilizzando i social, utilizzando le videochiamate. Ecco, gli operatori in questo momento sono la famiglia dell'ospite, quindi abbiamo sostituito, ovviamente, però vi ha ragione, insomma, la figura proprio familiare e gli operatori stanno lavorando in questo momento anche sopperendo a questa grave mancanza. Lo stanno facendo, curando in maniera importante le relazioni all'interno delle strutture, prendendosi cura delle persone, ovviamente in un modo diverso, perché abbiamo dovuto compartimentare, abbiamo dovuto creare dei percorsi specifici, abbiamo dovuto, purtroppo, trasformare le nostre RSA, che sono grandi comunità, di fatto in realtà più istituzionalizzate. Ecco, in questo però il ruolo, la relazione, il caldo della relazione e quindi l'attenzione alla persona è mantenuta costante grazie proprio al continuo e alla presenza, insomma, dei nostri operatori. Grazie, grazie Presidente Parolari. Che sia alta l'attenzione nei confronti dell'RSA forse lo dimostrano anche i dati forniti oggi, di 80 casi positivi, 37 sono stati riscontrati all'interno dell'RSA e quindi tornerei col Presidente Fugati per analizzare più in dettaglio la situazione di questi dati in nostro possesso. Sì, allora, tornando ai numeri, che oggi appunto non c'è l'assessore Segnana perché è impegnata al Cal, do i numeri nei vari comuni. Allora, a Davio un caso in più che porta a 6, a Baselga di Pinè un caso in più che porta a 17, a Besenello un caso in più che porta a 7, a Bleggio Superiore due casi, 52 è il dato, a Borgo Chiese due casi che porta a 88, a Borgo da Naunia uno che porta a 30, a Brentonico uno che porta a 40, a Caderzone Terme uno che porta a 13, a Canazzei uno che porta a 83, a Cavalese uno che porta a 76, a Cavedine uno che porta a 55, a Fiave uno che porta ad 8, a Lavis 16 e qui si tratta soprattutto di case all'interno della RSA che porta a 90, a Levico Terme uno che porta a 113, a Mezzocorona due che porta a 31, a Moina uno che porta a 29, a Mori uno che porta a 31, a Pellizzano due che porta a 56, a Pergine Valsugana due che porta a 227, a Pieve di Bono Prezzo uno che porta a 69, a Pinzolo uno che porta a 58, a Porto di Rendena tre che porta a 22, a Predazzo uno che porta a 106, a Riva del Garda 14, anche qui è un caso specifico di tamponi all'interno dell'RSA che porta a 135, a Rovereto nove che porta a 152, San Michele all'Adige uno che porta a 12, Spiazzo uno che porta a 25, Tesero uno che porta a 40, Tione uno che porta a 54, Trentosei che porta a 546. Grazie Presidente. Allora, torneremo da lei dopo per le domande, ma intanto coinvolgiamo il dottor Antonio Ferro per rivolgere a lui alcune questioni di carattere epidemiologico, per esempio chi ci scrive vorrebbe sapere se le persone asintomatiche devono convivere per sempre con il virus oppure se poco o dopo le loro difese immunitarie riescono a distruggerlo, a contenerlo, a reagire. Buonasera a tutti. Non sappiamo ancora esattamente come si comporta questo virus. Tendenzialmente si può pensare che le difese immunitarie riescano a distruggere e avere il sopravvento ovviamente sul virus e che questo scompaia. Però ci sono state delle riattivazioni e alcuni soggetti si sono ammalati una seconda volta e quindi non si sa bene se sia una riattivazione o se effettivamente queste persone si sono ammalate di nuovo. Si sta studiando su questo ovvero ci sono dei virus come l'herpavirus in cui sappiamo che rimangono nell'organismo la maggior parte dei virus normalmente sono eliminati grazie alla forza degli anticorpi che si sviluppano nelle persone e che quindi neutralizzano definitivamente il virus lasciando nella maggior parte dei casi anche una immunità simile a quella del vaccino. C'è una domanda da un milione di dollari come si diceva un tempo cioè se tutte le case farmaceutiche si mettessero a produrre il vaccino qualora ritrovato naturalmente quanti anni ci vorrebbero per vaccinare l'intera popolazione? Cogliamo questo spunto per chiedere invece se ci sono delle novità sul fronte del vaccino da una parte ma anche delle nuove terapie che si stanno sperimentando. Non è possibile che si cambino diciamo le filosofie in pochi giorni quindi tutti gli studi e anche quelli più avanzati sono nella fase sperimentale diciamo su piccoli gruppi di persone